Pregate in modo speciale, il Papa ha bisogno delle vostre preghiere. Io che sono credente cristiano, naturalmente ci sembra un po' di apprezzione, un po' di preoccupazione, ma siccome che hanno detto che è un intervento di routine o previsto, speriamo per il meglio, sicuramente sarà una cosa molto semplice. Grazie a tutti.